Col pacchetto scuola, le famiglie con basso reddito poteranno avere un aiuto concreto per l'acquisto di libri scolastici e altro materiale didattico e l'utilizzo dei servizi scolastici. Il beneficio economico individuale è riservato agli studenti iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. Il bando di concorso per i diritti allo studio per l'anno scolastico 2014-2015, finanziato con fondi regionali attraverso la provincia, per l'erogazione del pacchetto scuola sarà pubblicato lunedì 20 ottobre e resterà aperto fino alle ore 12 del prossimo 20 novembre. L'importo dell'incentivo economico varia a seconda dell'ordine e del grado della scuola frequentata, da un minimo di 120 euro ad un massimo di 280. Per potervi accedere è necessario documentare un valore dell'ISE per l'anno di riferimento 2013 che non superi in ogni caso 15.000 euro. Usufruisce del 100% dell'importo standard chi è nella fascia ISE fino a 5.000 euro, del 90% chi non supera i 7.000, dell'80% fino a 9.000 e dell'importo minimo del 70% chi fa parte della fascia ISE dal 9.000, un centesimo, a 15.000 euro. I moduli di domanda sono reperibili sui siti dei comuni della provincia di Lucca, che aderiscono al bando di concorso per diritto allo studio per l'anno 2014-2015.